Polemiche a Fiumicino per i cantieri annunciati dall'assessore comunale Angelo Caroccia nelle strade di Isola Sacra e Maccarese. Beni lavori, commenta Gianfranco Petralia del Movimento dei Moderati, ma l'amministrazione ha dimenticato Via Redi Puglia, Via Cima Cristallo, oltre a Via Ponte di Matidi e Limitrofe. Non sono mai intervenuti e le manutenzioni sono sempre state eseguite a spese degli abitanti. In particolare, Via Redi Puglia è impraticabile a causa delle radici dei pini, tanto che il Comune ha dovuto installare cartelli che limitano la velocità a 20 km orari e interrompere il servizio del trasporto pubblico. La cosa più grave, prosegue, è che con la chiusura dell'incrocio di Via Montecengio, Via Trincea delle Frasche, Via della Scafa e Via dell'Aeroporto, di fatto l'amministrazione induce i residenti e gli automobilisti ad utilizzare proprio questa strada. Invitiamo il Sindaco Montino e l'assessore Caroccia ad effettuare un sopralluogo per poi comunicarci come intendano intervenire. Nel caso in cui non dovessimo ricevere risposte, conclude Petralia, ci attiveremo con azioni di sensibilizzazione più incisive.